I precari della protezione civile vanno stabilizzati prima di assumere nuovo personale e il succo della decisione assunta dal Tar del Molise in merito al concorso pubblico bandito dalla regione per assumere 14 persone con contratto di lavoro subordinato e a tempo pieno e indeterminato alla protezione civile. Un bando che aveva fatto discutere ancora prima della pubblicazione per via della protesta più volte messa in campo dai precari che lavorano da anni in quel settore e chiedono di essere inseriti nella pianta organica. Dipendenti che in alcuni casi prestano servizio alla protezione civile da dieci anni con contratti a termine sempre prorogati. Quando nell'autunno scorso la regione ha pubblicato il bando una decina di precari si sono rivolti agli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla per impugnarlo. La regione nell'ultimo piano triennale dei fabbisogni aveva individuato proprio nella protezione civile carenze di organico e il 28 ottobre del 2019 aveva pubblicato l'avviso del concorso sul bollettino ufficiale. Un concorso aperto a tutti senza alcuna riserva a favore di chi da anni era già in servizio ma in condizioni di precariato. I giudici hanno accolto la linea dei legali dei ricorrenti prima ancora che il concorso potesse svolgersi. Non ci sono motivi hanno scritto i togati amministrativi nella sentenza pubblicata il primo giugno per i quali la regione non potesse stabilizzare i precari prima di procedere a un concorso per nuove assunzioni. Da sottolineare hanno dichiarato gli avvocati di Lalla, Fiorini e Iacovino che in molti casi si tratta di persone con famiglie a carico. Precari dunque soddisfatti per la decisione del Tar che ha annullato il concorso pubblico e ora sono in attesa che vengano messe in atto le procedure per essere messi in regola.